benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su gta 5 online allora questo è un bowling versus auto allora guarda il suino guarda il suino e vabbè in questi giorni sono un po raffreddato scusatemi sui levati sui mannaggia teo ma levati da davanti sui eh peccati allora che possiamo fare tiriamo stariamo di là a casa dai ma che di qua vedo però non c'è nessuno finora mamma mia una voce strana da raffreddato sui allora di là comunque io registro lo stesso per i miei tacchettini grandissimi allora 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 come noi vai voi vai 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 di là e quella la collapse lo becchiamo no oh 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 fatti giù pasqui grandissimo pasqui ma non eh allora mi dispiace pasqui però dovevo farlo allora dove stanno mi lavai fare dilaccato quanti colpi abbiamo 11 allora rientriamo a prendere un po di munizioni ho messo due round poi ne riavviamo uno di notte piovoso a su ti trollo su ti trollo no round perdente prossimo round comunque wiskalifa mi ha scritto bell'attacca di modus grandissimo wiskalifa e noi ci vediamo nel prossimo round bella eccoci qua col secondo round allora prendiamo una ossa e lo tocco dietro allora mamma mia ha raffreddato male allora mettevoci nascosto al radar allora eccoci qua e mettevoci nascosta mannaggia teo allora andiamo di qua ok ok i can deal with it e dove dovremmo andare mannaggia 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 e gira te ah va sotto proprio ah c'è anche fanno il salire come trolla come trolla sto tu allora andiamo di qua dove è la rampa dove la rampa però ma stavo per cadere da sola sicuramente non ci hanno visto allora andiamo piaci ci hanno visto si e come mo 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 no no nascostante mannaggiaечa e 이준 k accomplishmentsi piacinzia no paicinzia 7 9 1 grandissimo che pure della metri fuori grandissimo califo grandissimo hai fatto un fuori volatili e passi maledetto che mi ha ucciso e dai sui fallisacchi fallisacchi dai sui mannaggia e vabbè ci vediamo quando il round è perdente o vincitore e ne riaviamo un'altra di notte piovoso ci vediamo raga è perdente ne riaviamo un'altra di notte piovoso dai eccoci qua con l'attività ok allora siamo con il nostro completo nuovo qualcuno c'è l'antico da quanto ho visto qualcuno al mio completo antico perché ho visto uno che aveva le scarpe eccolo qua ah no non è lui che qualcuno aveva delle scarpe del mio completo antico boh vabbè no vabbè no no vabbè non è possibile o non è possibile mannaggia a me guardiamo volatili dai dai sui falli fuori tutti dai grande allora grande ma sua non so se si chiamano così per voi allora è volatile sei in grosso rischio qua deve essere lì qua sopra una pedana che sei più sicuro perché sanno che sei qua e vabbè vabbè fate un bel poterino dai e su un poterino vabbè e vabbè fate quello che volete guardiamo ma sua guardatelo è tutto fiero che ti fa che ti fa ci fa vedere i completi moddati dai sui fateli fuori e vabbè 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 guardiamo lui falli fuori sui dai sui mannaggia al raffreddore mamma mia da un fastidio vabbè partita perdente ne riavviamo un'altra di notte sereno però stavolta ok perché mi sono trollato allora io ci voglio giocare un po' guarda lo che fa air poter tutto dance win vabbè ci vediamo con l'attività dai metto un bel like e noi ci vediamo con l'attività bella eccoci qua con l'attività ma sempre ancora la parte del bazooka ma dai però cerchiamo di non trollarci andiamo subito qua prima di essere trollati dove 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 eccolo qua allora cerchiamo di andare qua prima che ci uccidono ok ora siamo al sicuro mi stavo a trollarci andiamo qualcuno a lui a sui no come ha fatto ma sua mamma mia vabbè ragazzi ve lo dico già ora tanto è perdente ecco visto partita perdente arriviamo minimo minimo 15 like e ci vediamo alla prossima bella ciao ciao